Beh, che cosa ti aspettavi? Non poteva che essere questo il finale. Il diario dell'autore dei diari. Rosso e blu. Non hanno scritto nulla. Io l'ho fatto. Io sono l'inizio e la fine di tutto. Io sono Dio. Io decido chi è rosso. Decido io chi è blu. Tutto è condensato nell'inchiostro di una singola penna. La mia. E tu? Tu chi credi di essere? Cosa provi? Sono forse stato cattivo a volere la morte di una regione? Hai compatito rosso e blu? Oh. Beh, non dovresti. Anche tu sei un assassino. Anche tu sei un Dio. Come me. Esattamente come me. Perché? Tu credi che senza un giocatore esista un personaggio? Che senza di te ci sarebbe qualcosa nel mondo Pokémon? Ingenuo. Tutto inizia quando accendi la console e termina di colpo nel nulla quando la abbandoni. Non sei diverso da me. Non sei diverso da un Dio. Né da un assassino. Tu decidi come sarà il tuo mondo dei Pokémon. Lo forgi con le tue mani. Etichetti le persone. Crei le persone. Rosso è uno stupido insieme di dati. Niente di più. Niente di meno. Tu volgi lo sguardo altrove. E rosso smette di esistere. E se smette di esistere rosso. Niente si muove. E tutto muore. Solo noi. Viviamo. Del resto. Siamo. O non siamo. Degli dei. Degli dei. Degli dei. Grazie a tutti